Il Consiglio regionale si riunirà per la prima volta in videoconferenza a martedì 24 marzo. Coronavirus, la regione sostiene le attività produttive in questo momento difficile. Consiglio e Giunta lanciano la campagna Io resto a casa per limitare il contagio. Bentornati a una nuova edizione di Consiglio News. Per la prima volta nella sua storia e in questo momento delicato a causa del coronavirus, l'Assemblea Legislativa di Palazzo Lascaris si riunirà in videoconferenza il 24 marzo. La decisione è stata presa durante l'HP Gruppo, convocata online. Il Consiglio esaminerà i provvedimenti economici, il documento di economia e finanza regionale, il bilancio e la legge di stabilità. Sentiamo il Presidente del Consiglio, Stefano Allasia. Si è deciso, maggioranza e minoranza, di poter trovare un'intesa per approvare il bilancio, il documento economico finanziario e la legge di stabilità. Regole ben precise per fare in modo che ci sia una salvaguardia della democrazia e dubbiamente un'approvazione urgente del bilancio, per dare certezza e concretezza a quello che è il progetto politico di Cirio, ma per dare certezza soprattutto al sistema economico regionale, per i pagamenti, per l'approvvigionamento in tutti i settori, non solo quello sanitario. Abbiamo necessità di superare l'ostacolo del coronavirus, la tecnologia fortunatamente ci viene in aiuto, ma abbiamo anche necessità di proseguire i nostri lavori legislativi. Maggioranza e opposizione hanno concordato sulla necessità di convocare in videoconferenza il Consiglio regionale perché i documenti economici diventano fondamentali a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus che sta causando pesanti ricadute sull'economia. Sentiamo a questo proposito Alberto Preioni, Lega, Domenico Ravetti, Partito Democratico e Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle, che abbiamo raggiunto in videochiamata. Stiamo lavorando per il Consiglio regionale per dotare il Piemonte di un bilancio. In un momento di emergenza come questo la politica e il Piemonte deve fare la sua parte. Come Regione Piemonte nel bilancio ci sarà un capitolo che parlerà delle famiglie. Intendiamo aiutare le famiglie dove marito e moglie lavorano, che non hanno magari parenti, nonni per accudire i bambini e che in queste settimane hanno dovuto far fronte a spese tipo la babysitter e a spese ulteriori rispetto al bilancio familiare. Questo sarà un primo incentivo per le famiglie. L'assessore Chiorino sta lavorando per degli incentivi per gli asili, gli asili pubblici, gli asili paritari e gli asili privati, perché tutti svolgono una funzione importantissima per la nostra società e in queste settimane di stoppo hanno avuto un grande danno economico. Il Consiglio regionale il 24 di marzo si riunirà per approvare i documenti finanziari. È in corso un pratico, in videoconferenza, in fisico, però stiamo facendo il possibile per accacciare le distanze tra noi e la maggioranza, perché, a prescindere dalle decisioni politiche, noi dobbiamo permettere al Piemonte di avere un bilancio approvato, che avviterà sicuramente al 24. Si è deciso di andare avanti in questo momento di così difficile emergenza per dare un bilancio alla nostra regione. Quindi sono stati sospesi tutti i provvedimenti più politici, ma si è deciso di andare avanti sul bilancio. Come forze di opposizione abbiamo dimostrato collaborazione e responsabilità, perché riteniamo che approvare un bilancio in tempi brevi sia uno dei modi per stare vicino ai cittadini piemontesi e alle persone che stanno affrontando in prima linea questa emergenza. La Regione Piemonte sta mettendo in campo misure concrete a sostegno delle attività produttive per fronteggiare le criticità, anche economiche, provocate dal coronavirus. A confermarlo l'assessore Andrea Tronzano. Credo che in questo momento i piemontesi stiano dando prova di grande senso civico, che la politica stia dando prova di forza e di serenità, che tutte le categorie produttive e sociali stiano dando prova di essere un sistema. All'interno di questo dobbiamo porre tutte le azioni possibili e immaginabili che una Regione può mettere in campo. Senz'altro quelle che abbiamo messo fino ad oggi sono importanti. Abbiamo liberato risorse importantissime sulla cassa, quindi pagheremo molti di coloro che aspettano soldi dalla Regione. Abbiamo messo fondi sul Fondo Centrale di Garanzia per dare liquidità alle imprese. Abbiamo attivato il Fondo Unico per gli artigiani, per le imprese, per le piccole e medie imprese. Abbiamo attivato anche la moratoria sui finanziamenti, direi meglio, per quelli che hanno rapporti con la Regione Piemonte, in particolare con Finpiemonte. Queste sono le prime misure di emergenza. Poi abbiamo il piano di competitività che partirà al più presto per il 2021 in attesa delle risorse del 2022 dell'Europa. Io resto a casa. È l'hashtag che ricorda anche sui social le norme da seguire per la prevenzione del contagio. Per questo Consiglio e Giunta regionale hanno lanciato una campagna di comunicazione per invitare i cittadini a rispettare le indicazioni dei decreti governativi sul coronavirus. Vi ricordo che sempre sul sito del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo www.cr.piemonte.it potete trovare notizie infografiche costantemente aggiornate sulle misure per il contenimento e il contrasto dei diffondersi del virus Covid-19. Regole importanti da rispettare come ci ricorda anche Cristina Chiabotto testimonial della campagna social del Consiglio e della Giunta regionale. Anche io ho aderito alla campagna Io resto a casa lanciata anche dalla regione Piemonte e dal Consiglio regionale. Fatelo anche voi, mi raccomando, siate responsabili e consapevoli e combattiamo insieme contro il coronavirus. Cristina Chiabotto fa parte del Piemonte Team, un gruppo di volti noti piemontesi dello spettacolo, della moda e dello sport che si sono mobilitati con una raccolta fondi attraverso il sistema del crowdfunding per sostenere strutture ospedaliere, medici e infermieri impegnati da settimane nel contenere l'emergenza coronavirus. L'hashtag è Insieme Siamo Più Forti. Le donazioni raccolte verranno trasferite sul conto corrente ufficiale della regione Piemonte che potete trovare sul sito del Consiglio regionale. Tutti gli acquisti saranno rendicontati in maniera trasparente. E questa era la nostra ultima segnalazione. Vi ricordo che sul sito del Consiglio regionale del Piemonte trovate notizie e aggiornamenti su norme e provvedimenti per arginare il coronavirus. L'appello con cui vi salutiamo è quello di informarsi solo attraverso i canali ufficiali. Per questa edizione di Consiglio News è tutto. Arrivederci.